andiamo dai Guido dai Guido dai oh no sempre con la ginocchiata cosa? cosa? merda sei troppo bassa no dai cazzo non era forte però c'ha le palle ipersensibili avrà le palle ipersensibili non lo so io non me ne intendo questi dolori genitali non lo so non lo so bravo porca ha vinto ci si è abbattuto e cos'è aveva? l'astremolamento? non vedo cazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti